Sacre Coeur, Montmartre, Pigalle, Moulin Rouge, non che mi interessi, Moulin Rouge. Certo. E poi il Louvre, con la sua piramide di cristallo. Ora, se fai attenzione, vedi anche proprio tutti i riflessi sui vetri. Vedi? Sì, sì, sì. Brillano anche un po'. I battelli della Senna vanno su e giù anche di notte? Sì, ovvio. Io in realtà ne ho preso uno per noi due privato. Possiamo andarci quando vogliamo, tra un'oretta. Vista da qui, Parigi è davvero unica. Che fai? Parigi è davvero unico. Per... Grazie a tutti.